Ciao a tutti ragazzi, sono Onda Marina e in questo nuovo video voglio farvi vedere il mio primo squishy che è questo qua, una cembellina morsa con questo fiore di cioccolata ed è bellissimo questo squishy l'ho preso in edicola una cosa, come si chiama? l'ho preso in edicola dove c'era una scatola che conteneva varie cose e io ho preso lo squishy bellissimo assia a parto che avevi fatto così che così è bellissimo questo squishy del mio primo squishy ed è bellissimo, spero di trovarne altre pochettine in edicola e niente, ciao, al prossimo video